Allora Giulia, qui abbiamo uno strudel su pecorino con cipolla e non so che cazzo altro c'è Dieci Anche l'alito dieci Buongiornissimo, oggi ci sono i Prime Day e quindi voglio farvi vedere un po' di cosine cosuce Tra cui mi ha influenzato Pierpaolo Ebbene, sì, io ho copiato lo spazzolino L'oral B.I.O. che trovate solo oggi al 40% facendo swipe up Per oggi ragazzi, in occasione dei Prime Day, trovate anche tutto il meraviglioso mondo di AZ in promozione Quindi fate swipe up per vedere tutte le offerte Questo è AZ 3D White, lo genere, uno dei miei preferiti Ragazzi, buongiorno, oggi facciamo un po' di shopping insieme Iniziano i Prime Days e quindi tutti gli iscritti di Amazon Prime possono accedere a più di un milione di offerte tra le piccole e medie imprese Tra cui ci sono imprese a conduzione familiare, imprese gestite da donne Vi lascio anche a voi lo swipe up No, ragazzi Aia Amore, l'energia per mangiare è già consumata, non mi riesce a morde Chi non l'ha mai visto nascere una terra E chi non l'ha mai visto nascere una terra Non lo sa che cosa è Allora, l'estate alle porte, ragazzi Casa mia sapete che diventa una spa in questi casi So che questo è un tema che tocca tante di noi Ma anche i maschietti Perché sono i pei Sbarazziamoci di questi per una volta per tutte Per me è stato un trauma da sempre Vi avevo già fatto vedere che cosa utilizzavo durante la quarantena Che è stata una vera scoperta E lo sto continuando a utilizzare Specialmente ora che sono in viaggio Non riesco ad andare magari con costanza dall'estetista, eccetera E' il mio Brown Silk Expert Pro 5 Super tecnologico, una luce pulsata Che riconosce la tipologia di pelle In base a quello decide la potenza del getto della luce Infatti è senso adatto E vi faccio vedere Per esempio Come vi dicevo ragazzi Essendo senso adatto Non è neanche particolarmente doloroso Perché riconosce la tipologia della mia pelle Vi lascio qua il link Perché ci sono i Prime Days, ragazzi E quindi un sacco di promozioni da non perdere Fatemi sapere Quando noi andiamo Basta che mi prendi per mano E sono giù sopra E lo voglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti